Ciao e bentrovato nel mio canale Come Usare, un canale dedicato alla tecnologia. Forse hai acquistato un computer online importandolo dall'estero e vuoi cambiare il layout della tastiera? Oggi ti spiego come cambiare la lingua della tastiera su Windows 10. Iscriviti al mio canale se non lo hai fatto, per non perderti i prossimi video tutorial. E se hai domande, falle nei commenti qui sotto o scrivimi una mail a comeusare.tutorial.com Cominciamo subito e scopriamo come cambiare lingua la tastiera. Clicca su Start. Ora cerca il pannello di controllo. Sotto Orologio e opzioni internazionali, clicca su Aggiungi una lingua. Clicca ancora su Aggiungi una lingua. Ora scegli la lingua della tastiera, ad esempio il francese della Francia. Fai doppio clic. Seleziona la lingua francese della Francia e poi clicca su Aggiungi. Adesso sulla lingua francese clicca su Opzioni. Scarica la lingua e ora puoi impostarlo come lingua principale oppure sceglierlo dalla barra del menu. Ed ecco il risultato. Se digito Q-W-E-R della tastiera italiana, la tastiera trasmette l'input A-Z-E-R. Grazie per avermi seguito. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace. E tu, in che lingua hai impostato la tua tastiera? Faccelo sapere nei commenti qui sotto. Ci vediamo al prossimo video! Grazie per avermi seguito. Grazie per avermi seguito. Grazie per avermi seguito. Grazie.